Ciao ragazzi, come state? Spero benone. Oggi vi parlo praticamente di un discorso di pelle-seno. Praticamente sappiamo benissimo che per avere un bel seno bisogna sicuramente mantenere una buona alimentazione. Bisogna fare esercizio fisico idoneo che ovviamente non ci può far guadagnare due o tre taglie di seno, ma può darci una postura migliore al fine da poter avere un seno ben diciamo formato. Quindi può aiutarci anche da un punto di vista di postura a rendere più armonioso e magari in certi momenti anche più sicuramente sodo perché si va a stimolare il muscolo sottostante, quello che è il grasso del seno, quindi può aiutarci ad avere una presentazione diciamo del nostro decoltè sicuramente migliore rispetto a quella di chi lascia praticamente, perdonatemi che ripeto sempre praticamente, ma cadere diciamo il discorso del seno a causa degli anni e della forza di gravità. Io dico sempre l'esercizio fisico comunque aiuta, è vero che il seno è costituito da grasso, ma sotto il seno abbiamo il muscolo, quindi ovviamente non si fanno dei miracoli con l'esercizio fisico, non è che da una seconda si passa a una quinta o che da qui si passa a vedere le tette sotto al collo, per quello ci vuole la chirurgia plastica probabilmente, ma possiamo comunque migliorare tramite l'attività fisica proprio la presentazione di quello che è ogni, di qualsiasi parte del nostro corpo, perché con l'attività fisica possiamo lavorare su quello che è il sostenimento e rafforzamento da parte dell'aspetto muscolare, ok? Questo dà un apporto in più anche a quello che è tutto il resto, nel senso comunque un muscolo sodo e che riesce a reggere in qualche modo tutta la struttura, poi dà la possibilità di mostrare, comunque dare in questo caso una silhouette del seno migliore, quindi molto più bella anche da vedere, no? Quindi può aiutarci anche a ingannare un po' l'occhio e dare la parvenza di più volume, no? Di avere più volume anche grazie alla postura che acquisiamo tramite, attraverso l'esercizio fisico adatto. E in questo chiedo aiuto e sostegno una persona che se ne intende veramente tantissimo, che ha una buonissima e forte preparazione su questo tipo di argomento, esercizio fisico idoneo per ogni parte del nostro corpo, mi riferisco a Cinzia Savona, vi invito a seguirla, vi invito a seguire i suoi video e le chiedo un supporto in questo senso. Invece io parlo di rassodare la pelle del seno perché anche questo aiuta praticamente a dare una, sì, un'idea, una visione del seno, di un seno sicuramente molto più sano, più sodo, che quindi può a livello di struttura farci guadagnare anche un pochino di volume, ma ovviamente non sto parlando di due o tre taglie in più. Ovviamente rendendo la pelle più liscia, più compatta, più sodera, sodando proprio la parte del seno, può anche questo, in taluni casi, dare l'idea di essere un pochino più voluminoso, ok? Quindi ci aiuta, poi comunque la pelle diventa molto più bella, e questo è il fatto, e anche lì l'occhio cade, lo sappiamo. Cosa bisogna fare? Primo trattamento. Trattamento con il bianco d'uovo, il solito, praticamente si sbatte, in questo caso per il seno, due, si sbattono due bianchi d'uovo in un piattino, si sbattono un po', poi il risultato, si mette sul seno, quindi il collo, decoltè e seno fino a sotto, si lascia su a... in posa per almeno 15 minuti, dopodiché si sciacqua con acqua fresca, non calda, fresca, magari con la doccia, si tampona tranquillamente con una salvietta pulita, e dopodiché si idrata con la vostra crema idratante, oppure con olio di cocco, oppure con olio di argan. Questo trattamento si può fare una volta alla settimana. Sempre una volta alla settimana si può fare il trattamento con il miele. Si mette praticamente uno strato, non servono due quintali, veramente poco di miele, su collo, decoltè e seno, ok? Si lascia agire sempre su per almeno 15 minuti, passati 15 minuti si massaggia, massaggi circolari e dal basso verso l'alto, ok? Circolari e dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto, per almeno 5 minuti per parte, dopodiché ci si sciacqua con acqua fresca, ci si tampona con una salvietta pulita, e sempre o crema idratante vostra, o olio di cocco, o olio di argan. Quest'altro trattamento sempre una volta alla settimana. E poi in linea di massima, in generale, quando se non la mattina sarebbe da farlo, la sera ci passiamo una crema idratante, o l'olio di cocco, o l'olio di argan per tutto il corpo, bisogna passarlo anche sul seno, a livello di massaggio, sempre circolare dal basso verso l'alto, per mantenere la pelle idratata tutti, tutti i sacrosanti giorni, perché anche la pelle del seno invecchia, come tutta la pelle che abbiamo addosso. Questo è quanto, ricordatevi, una sana alimentazione, anche su questo magari qualche consiglio, lo può dare sicuramente Cinzia, e molto importante è anche l'attività fisica, che ci permette di avere un'ottima postura, e un ottimo sostegno muscolare, quindi ci può aiutare a, anche praticamente ad avere un, sì, una postura che ci permetta di valorizzare il seno, in questo caso. Quindi, ripeto, seguite i miei consigli per quello che riguarda la pelle, che è molto importante, e seguite i consigli che sicuramente vi darà Cinzia Savona, anche su questo argomento. Intanto vi do un bacio grandissimo, e alla prossima. Ciao!